Don Valentino, perché è venuto qui a Crotone? Sono amico del Vescovo, già altre volte sono stato qua, ho fatto incontri con i sacerdoti, facendo loro esercizi spirituali, quindi è una familiarità con la zona da lungo tempo. E poi, la cosa che più mi piace, oltre che andare nelle parroche e tenere conferenze, faccio incontri con i ragazzi. Ecco, ho appena terminato adesso un incontro con gli studenti dell'Istituto Benedetto XVI. E' stata per me una bellissima sorpresa, perché ho dialogato con loro cercando di capire, il tema era contro i mali del mondo Dio ha fatto te. Ho parlato un po' dalle mie esperienze, come sta andando il mondo in Africa, in Asia, in confronto con... E ho visto con grande gioia che questi ragazzi hanno dei valori. Se mi domande a quali, chi le dirò? Ma per il momento io dico, hanno dei valori e questo già mi allarga il cuore. Certo, e pensare che i giovani hanno dei valori è sicuramente un seme di speranza. Speranza, però, contemporaneamente c'è stata anche un'accusa nei confronti dei genitori. Perché quando io ho detto, ho visto il mondo, ho visto 36 paesi in Africa, 12 in Asia, un po' dell'America Latina, e di fronte alla domanda qual è stato il paese dove è stato peggio, io ho detto il Giappone. E perché il Giappone? In Giappone ci sono tantissimi soldi, con quello che un ragazzo giapponese spende in un giorno, io do da mangiare un anno a una bambina dalla costa d'Avorio, perché con 20 centesimi una bambina in costa d'Avorio è da me mantenuta. Ecco, la differenza è questa. In Giappone ci sono tanti soldi, ma non ci sono valori. E ci sono 80 suicidi ogni giorno. In Africa, dopo 48 anni che sono in Africa, non ho mai sentito una sola volta che una persona si sia ammazzata. Sono poveri, a volte miserabili, ma hanno la ricchezza della fede. E per cui ecco il passaggio che loro stessi hanno fatto i ragazzi. Di fronte al foglio che ho letto, glielo darò dopo, c'è il per te stesso, di fronte al fatto che io ho scritto può darsi che i tuoi genitori ti abbiano voluto bene, ma non hanno potuto, lascio perdere, e qualcuno ha detto, eh sì, i nostri genitori hanno fatto degli sbagli. Ha detto, domando a voi, non voglio essere io a imporre. E quali sono gli sbagli che hanno fatto i vostri genitori? Non ci hanno dato i valori, ci hanno dato delle cose materiali. Non so se questo è dovuto al fatto che questa è una scuola cattolica e quindi hanno già questa propensione. Però mi ha sorpreso positivamente il fatto che abbiano capito che i genitori loro sono a volte vittime dei loro nonni di questi ragazzi, no? che finita la guerra hanno dato cose materiali ai figli e sempre meno cose spirituali.